Bentornati sul nostro canale. Oggi andremo a vedere quali sono le caratteristiche di un servizio di hosting e quindi come scegliere un hosting provider. Vediamo subito quali sono queste caratteristiche. La prima è il TTFB, ovvero il Time to First Byte, ed è la velocità di accesso al nostro sito. La seconda è l'Uptime, ovvero il tempo di permanenza online del server senza riscontrare errori. La terza è lo spazio disponibile, ovvero quanto spazio espresso in gigabyte ci viene messo a disposizione. La quarta è SSL, o meglio TSL, che è un protocollo di criptografia dei dati. In ultimo l'assistenza, ovvero il tempo di risposta e la competenza tecnica del servizio di hosting. La caratteristica più importante che dobbiamo andare a valutare di un web hosting sono le prestazioni. Ad oggi è importantissimo far sì che il nostro sito venga caricato nel minor tempo possibile e quindi la velocità di accesso al nostro sito è una delle principali caratteristiche che dobbiamo tenere in considerazione. La velocità di accesso al nostro sito, che viene indicata con l'acronimo TTFB, ovvero Time to First Byte, può variare in base alla distanza tra il server dove si trova il nostro sito e il computer che fa la richiesta per poter accedere proprio a quel sito. Quindi la prima cosa che dovremmo fare è capire il target di riferimento del nostro sito dove si trova e cercare di scegliere il server che sia più vicino a quella zona. Quindi facciamo un piccolo esempio. Se sappiamo che il target di riferimento del nostro sito è un pubblico italiano, l'ideale sarebbe scegliere un server che si trovi su territorio italiano. Se vogliamo parlare di numeri, possiamo prendere sempre in considerazione l'esempio precedente dove il computer che fa la richiesta si trovi in Italia. Se il nostro server si trovasse negli Stati Uniti, avremmo un tempo di accesso al sito mediamente intorno ai 150 millisecondi. Se invece il nostro server si trovasse in Europa, ci agiremmo intorno ai 70 millisecondi mentre se il nostro server si trovasse in Italia, potremmo scendere sui 40 millisecondi. In questa maniera andremo ad abbattere tantissimo i tempi di accesso al nostro sito. La seconda caratteristica da tenere in considerazione è l'uptime, ovvero il tempo in cui il nostro sito rimane online senza che il server vada in errore e quindi poi cada. Perché è importante? Perché ovviamente nel momento in cui il server va in errore il nostro sito non sarà più visibile e potrebbe volerci più o meno tempo per poter risolvere questo problema e rimettere il sito online. Immaginate per un e-commerce che cosa può significare non essere online per una giornata o ore. Significherebbe perdere dei potenziali acquisti. Il tempo di uptime si misura in percentuale. Ovviamente l'ideale sarebbe quello di avvicinarsi il più possibile al 100%. Altra caratteristica è quanto spazio ci viene messo a disposizione. Questo più che altro può essere preso come un parametro di confronto con diversi hosting provider per vedere più o meno intorno allo stesso prezzo quanto spazio ci viene messo a disposizione. Normalmente lo spazio parte da almeno un gigabyte. Diciamo che per un sito o vetrina, quindi più o meno un sito dove non vengono inserite tantissime informazioni o non vengono aggiornati i contenuti giornalmente, settimanalmente, attraverso ad esempio un blog, stare al di sotto dei 10 giga non è un problema. Se invece parliamo di un sito con un blog dove vengono caricati tantissimi video e tantissime immagini oppure un sito e-commerce dove vengono aggiunti dei nuovi prodotti con relative nuove foto e nuovi video diciamo che 10 gigabyte sarebbe lo spazio minimo che dovremmo prendere in considerazione. Passiamo poi al protocollo SSL. Il protocollo SSL è un protocollo di criptografia dei dati che inizialmente veniva utilizzato soltanto per i pagamenti o comunque quei siti di transazioni di denaro. Invece oggi viene utilizzato indistintamente. Sarebbe più corretto indicarlo come TSL perché TSL è il nuovo protocollo che è andato a sostituire il vecchio SSL. Tuttavia la dicitura SSL è più di comune utilizzo e quindi si è mantenuta questa dicitura anche se poi di fatto l'hosting provider fornirà un protocollo TSL. Ed è importante avere il protocollo SSL attivo perché innanzitutto il nostro browser potrebbe bloccare l'accesso al nostro sito per una questione di sicurezza e soprattutto i motori di ricerca lo ritengono un fattore molto importante. Ad esempio Google valorizza tantissimo quei siti con il protocollo SSL attivo e quindi va a migliorare il loro posizionamento. Last but not least, l'assistenza. L'assistenza è uno di quei fattori che solitamente non viene preso tanto in considerazione durante l'acquisto di questo servizio. Il problema ce lo porremo proprio nel momento in cui si presenterà un errore nel nostro sito. Quali sono i fattori che dobbiamo tenere in considerazione qui? Innanzitutto se dovessimo scegliere un hosting provider straniero potremmo avere come primo ostacolo lo scoglio linguistico. Se consideriamo che quando dobbiamo descrivere delle problematiche riguardanti il nostro sito dovremmo comunque utilizzare un linguaggio specifico e potremmo avere quindi delle problematiche di comunicazione. Non meno importante il fuso orario. Quindi se il fuso orario del nostro hosting provider è di molto diverso dal nostro potremmo rischiare che la nostra richiesta di assistenza venga poi letta magari il giorno successivo e quindi per noi potrebbe essere un grosso problema avere il sito eventualmente offline per tutto questo tempo. Ovviamente queste tempistiche potrebbero non essere soltanto dipendenti dall'eventuale fuso orario dell'hosting provider. Ci sono degli hosting provider anche in Italia che hanno dei tempi di risposta, tempi di assistenza abbastanza elevati. Quindi dovremmo perlomeno assicurarci che nel caso riscontrassimo un errore sul nostro sito l'assistenza risponda in tempi brevi e che ovviamente siano tecnicamente preparati per risolverlo sempre in tempi abbastanza ristretti per poter poi ripristinare il nostro sito online. Come possiamo fare quindi per avere delle informazioni soprattutto sulla parte di assistenza di un hosting provider? Io vi consiglio di utilizzare Traspilot. Traspilot è un sito dove vengono raccolte le recensioni di praticamente qualsiasi cosa e andando a scegliere la categoria internet software e imprese di web hosting troverete tutta questa lista di aziende con riportato il numero di recensioni totali e il punteggio ottenuto. All'interno della singola scheda potrete trovare ad esempio quanta percentuale ha dato 5 stelle, quanta ne ha dato una. Potrete proprio leggere le singole recensioni dei vari utenti e farvi più o meno un'idea di come funziona la loro. assistenza. Tra i nomi di questa lista ne abbiamo scelti alcuni per darvi più o meno un punto di partenza sui vari hosting provider da poter scegliere. Il primo è proprio il primo che troviamo nella lista che è Vhosting che ci dà a disposizione come potete vedere dei diversi pacchetti. Andando poi sulla voce hosting vedrete che potrete trovarne anche altri come ad esempio l'hosting appositamente pensato per WordPress. Sostanzialmente i prezzi che vedrete saranno quasi sempre IVA esclusa e in questa maniera vedrete subito le differenze tra i vari pacchetti. Il secondo che troviamo è Host.it dove anche qui vedete che abbiamo a disposizione l'hosting per WordPress cliccando su confronta profili anche qui vedete che potrete confrontare i vari pacchetti. Anche loro hanno a disposizione diversi tipologie di CMS. Poi troviamo Kelly Web. Anche qui vedete abbiamo sempre una divisione in pacchetti con le varie caratteristiche su ognuno di questi box. Per quanto riguarda Kelly Web loro hanno un pacchetto dedicato ai CMS che si chiama proprio Kelly CMS. E in ultimo troviamo Aruba. Ovviamente anche qui abbiamo l'hosting ottimizzato per WordPress o anche gli hosting classici. Che cosa significa avere un hosting ottimizzato per WordPress? Significa avere un server dove già è stata fatta una configurazione per ottimizzare le prestazioni di WordPress. Ovviamente parliamo di WordPress nello specifico ma in generale per i singoli CMS che andrete ad utilizzare. E questo vi semplifica non poco la configurazione di WordPress. E quindi qual è il migliore? Purtroppo non c'è una risposta esatta a questa domanda perché ognuno di noi ha delle diverse necessità. Come abbiamo visto prima chi ha un sito vetrina avrà delle necessità molto differenti da chi invece avrà un sito e-commerce. Per cui la scelta spetterà proprio a voi. Sì ok ma se poi sbaglio la mia scelta? Beh come disse Mary Frances Girti un hosting is forever assolutamente no. Come avete visto tutti gli hosting offrono dei pieni di abbonamento chi annuali chi mensili. Quindi non stiamo parlando di un abbonamento per sempre. Ricordiamoci che comunque possiamo in qualsiasi momento cambiare il fornitore ovviamente perdendo le somme che abbiamo già pagato. In più se avessimo scelto il pacchetto sbagliato di un hosting provider ma ci trovassimo ancora bene con lui nella maggior parte dei casi gli hosting provider offrono delle opzioni scalabili ovvero ci danno la possibilità nel caso in cui il pacchetto che abbiamo scelto ci stesse un pochettino stretto di fare un upgrade ad un altro pacchetto occupandosi poi loro di tutte le operazioni necessarie. Se doveste aver trovato difficoltà nel seguire il discorso proprio a causa delle varie terminologie tecniche che ho utilizzato potete andare sul sito dell'Accademia d'Eco e all'interno del nostro corso di web design troverete tutta la parte dedicata alla pubblicazione online dove vengono descritte queste terminologie e quindi potrete riuscire a comprendere meglio il discorso. Vi ricordo che sul sito potete trovare anche il calendario delle dirette live dove viene indicato ovviamente quale giorno ci sarà quale live vi ringrazio di averci seguito e vi do appuntamento a giovedì 11 marzo alle 18.30 con argomento lettering la classificazione di Novarese con Guido. Grazie a tutti.